ho capito ma lui non guarda la tv ragazzi tu guardi la tv mai visto una serie non guarda serie ce l'hai che ti hai messo stranger things no a casa di carta si va bene si ha dovinato se li ho capito mangio anch'io mangio anch'io senza glutine qualcosa senza glutine musiche da brioche oh mio dio fai toast caffè tu no il mio sbagliato il mio giusto dai c'è anche la brioche a volte si si tossono sempre ma caffè sempre quindi giusto ogni tanto siamo ragazzi questa proprio facile uguale da tifa dai questa città faccio più scarso di me lo so però non vale io l'ho detto prima vai savona il 77 98 no 98 98 giusto sei grato che schifo allora io giusto luogo giusto data sbagliatissima però 97 giusto io 16 novembre 16 novembre quando 8 maggio vabbè il giorno c'era marzo il primo maggio vedi che c'ero e tortona tortona è difficile dai ragazzi a me c'è solo una canzone che ascolta vai gue marra gue non tanto ma racchiarsi dai tu io sono una canzone che ascolta sbagliatissima sbagliatissima chi è gue gue sbagliatissima vai 36 45 e mezzo si tu 48 e mezzo vabbè ci siamo questa via tutte e due giusto casale che prendeva sempre per diretti da carte la via molto meglio c'è ragazzi è bello quello bello per banale mio meglio allora se lo hai fatto partita fifa scrivo no con mia vittoria mia questa città mia è giusto è giusto